Dobbiamo combattere tutti assieme quella terribile malattia che è la SLA. Magari prima facendo un versamento, un versamento alla fondazione che aiuta i malati, poi facendo una nomination, io vorrei nominare tutti i rettori delle università del Veneto e dopo prendendo un secchio di acqua gelata e versandoselo in testa. Grazie a tutti.